Non tutti quando nascono hanno tanto pelo così? No. Su? Eh. Su? Non è che ha un menù. Sì, questo è una ragazza di pane. Mi dico che la fa bemmocca a mangiare. Questa qui aveva un dei pier mangiare, la bibbia aveva un dei pier mangiare. Eh. Amore chi l'ha la tua cavone, non so io. No. No. Um. Oh! Mamma mia! No! No! Non c'è proprio il tempo che se non ti avrete una cosa. Oh! No! è